L'esercizio in questione non è molto difficile perché non ha parti che vanno sopra o che vanno sotto, è piuttosto lineare, quindi la cosa più facile è fare prima il disegno in azzurro e poi andare a fare le congiunzioni del giallo della parte che dovrebbe stare effettivamente dietro. Comincio con realizzare il quadrato centrale, poi passerò a realizzare i triangoli in questo modo e per concludere farò questi romboidi che si trovano in queste posizioni. Il quadrato ha i vertici che distano 4 quadretti da ogni lato, quindi 4 di qua, 4, 4 e 4. Il centro è a 6 quadretti, 4 quadretti dall'alto, 4 quadretti dal lato destro, 4 quadretti dal basso e 4 quadretti dal lato sinistro e poi li vado a congiungere. Il consiglio che vi do è per fare questi lavori non utilizzate un righello troppo grande, già quello da 30 cm come nel mio caso è fin troppo lungo. Se poi usate un righello o una riga da 50 cm risulta proprio scomodo da utilizzare. Quindi andiamo a fare i nostri triangoli che hanno la base ai vertici della base che si trovano sul proseguio dei lati del nostro quadrato. Quindi se questo è il lato io lo proseguo di una diagonale sia da qua che di qua e posso tracciare la base del mio triangolo. La stessa cosa la posso fare nell'altra direzione e ovviamente anche per gli altri due. Per cui siccome si trova su questa linea io vado ad individuare un vertice qua, un vertice in quest'altra posizione. Questo è il mio lato del quadrato, lo proseguo di uno e qui ho trovato il secondo vertice. La stessa cosa dall'altra parte e lo faccio anche in obliquo, stesso identico ragionamento. Quindi questo è il mio lato, vado qui saltando un quadretto, vado qui saltando un altro quadretto e la stessa cosa faccio di qua. Un quadretto e un quadretto. E ora posso tracciare la base dei miei triangoli. Il vertice dei triangoli si trova sulla diagonale del quadrato saltando due quadretti per cui un quadretto scusate per cui se questa è la mia diagonale io mi trovo qua, salto un quadretto e mi trovo in questa posizione e posso tracciare i lati del mio triangolo isoscele. E faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi vertice qui salto un quadretto e vado a tracciare il mio triangolo. Così pure salto un quadretto e lo faccio dalle altre parti, in questo modo. I romboidi infine hanno un vertice che si trova sul vertice del quadrato, l'altro che si trova sul lato del quadrato grande. ha qui in alto il lato che taglia il quadretto, in questo modo, e dall'altra parte fa lo stesso per poi andarsi a congiungere nella posizione centrale. Qui non c'è molto da trovare uno schema, bisogna riuscire a contare nel modo giusto e lavorare per parti. Si fa prima un lavoro, prima io ho fatto il quadrato, poi ho fatto i triangoli, adesso sto facendo i romboidi, ma lavorando con questo sistema riesco a non perdermi pezzi e riuscire a fare tutto nella maniera migliore. Ecco. Ecco. e con l'ultimo abbiamo finito i nostri romboidi infine dobbiamo andare a congiungere creando una sorta di stella dietro parte dai vertici arriva fino al vertice del romboide e prosegue in questo modo con questo giro vertice vertice del romboide e traccio vertice del romboide arrivo fino al vertice del quadrato e prosegue in questa maniera ecco qua